Per l'Istituto Ortopedico Pini CTO, Paola Navone, direttore sanitario, Giorgio Maria Calori, responsabile dell'Unità Operativa di Chirurgia Ortopedica Riparativa e Carmine Cuciniello, direttore dell'Unità di Ortopedia Correttiva. Per il Galeazzi, Lorenzo Drago, direttore di Laboratorio Analisi e Carlo Luca Romanò, responsabile di Chirurgia Ricostruttiva, sono le persone destinatarie del provvedimento degli arresti domiciliari firmato dal GIP Teresa De Pascale. Tommaso Brenici, titolare di On Medical di Monza, specializzata nella produzione e commercializzazione di attrezzature mediche ospedaliere, è invece finito in carcere. In base alla ricostruzione degli investigatori, l'imprenditore e i due primari del Galeazzi facevano parte di una società che aveva il brevetto di un macchinario per l'individuazione delle infezioni ossee. I due dirigenti medici lo hanno introdotto al Galeazzi, poi, attraverso il primario di Ortopedia del Pini, è stato introdotto anche lì. I medici producevano anche studi scientifici e pubblicazioni in cui esaltavano le qualità del macchinario, per un conflitto di interessi che ha portato agli arresti. Secondo l'accusa, Brenici sarebbe stato favorito dai primari nella fornitura di attrezzature ospedaliere al Pini e al Galeazzi in cambio di tangenti. Il Pini è l'ospedale più facile del mondo, diceva l'imprenditore in una conversazione intercettata dagli inquirenti, perché non ci sono gare. Se sei amico di un chirurgo, usi i prodotti che vuole, cioè tutto è libero, tutto libero. In un'altra intercettazione si fa riferimento a una borsa di Witton regalata da un medico alla moglie, probabilmente dopo averla ricevuta a sua volta in regalo, e in un'altra ancora a un'anziana morta di fame, ossia non abbiente, che già aveva pagato 300 euro di visita e che poi voleva pagare a rate, il chirurgo ortopedico arrestato stamani avrebbe risposto, allora la perizia la prossima volta gliela farò in due tempi. La battaglia alla corruzione per noi è fondamentale. L'assessore al welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ha commentato così i nuovi arresti nella sanità lombarda per tangenti. Se ciò che abbiamo già fatto ha dei limiti, ha aggiunto, evidentemente faremo uno sforzo che esce dall'ordinario. Al Gaetano Pini, struttura coinvolta nell'inchiesta, dall'aprile del 2016 è stato adottato un protocollo in base al quale, se non si usano protesi ortopediche previste da una gara d'appalto, i medici devono fare una dichiarazione di infungibilità che deve essere autorizzata dal direttore di struttura, complessa e dal direttore dell'ortopedia. A questo punto, ha sottolineato Gallera, bisogna vedere se i fatti contestati sono precedenti o meno a questa data.